Tu, tu si, e ti sembra giusto che io che scrivesti? Per me fa una figlia che si traspariva a Sbici. Lo restituono affiliato all'Andrangheta, non siamo noi a dire. Ma chi è andato? Chi è Sandrangheta? Ma chi è Sandrangheta? Lo sa perfettamente. No, non lo so perfettamente, non lo spieghi lei se lei lo sa. Io non lo so. Io lo so cos'è l'Andrangheta. E cos'è l'Andrangheta? Io non so, io da 16 anni che sono a Milano. E lo spieghi ai magistrati. Io quando ero a 16 anni, io a 16 anni ero già a Milano. Sì. Non sappiamo. E quindi, di questo da Calabria, mi interessa, mi sono sempre interessato. Lo so, però è stato condannato per certe cose fatte da determinate persone. Ma allora, prima che uno che è pregiudicato, è mafioso.